Oggi vogliamo manifestare il nostro malcontento di questa gestione degli spazi che lascia un po' a desiderare, c'è da dirlo, perché comunque non abbiamo mai risposte chiare e soprattutto in anticipo per l'anno scolastico. Arrivano sempre un po' al ridosso, quindi quello che chiediamo sono risposte chiare, concrete e soprattutto efficaci e veloci. La situazione è invivibile, le classi aumentano ogni anno e non è più fattibile di stare divisi, di fare rientri durante la settimana che secondo me l'anno prossimo finiranno per essere più di due, quindi è veramente una situazione in cui non possiamo più stare. Serve una soluzione e una soluzione ora, non una soluzione tra 5-6 anni, è una cosa che serve adesso. Chiediamo di essere veramente la priorità, perché ci dicono che siamo la priorità, ma la priorità non siamo.